la palla, bella difesa questa eh, il contropiede e va, un grande schiacciata così semplice, adesso vediamo Trapani per Trish che salta Antonuti e va a schiacciare vediamo al posto di chi, Trish tenta la tricca, ora ragazzi è immarcabile un tiro da tre, un tiro da tre, un tiro da tre prenda il supplementario, la prova è incredibile, è incredibile, è incredibile, complimenti al capo di Orlando, non è